La scultura che ho realizzato è ispirata a colazione da Tiffany. Ho usato dei palloncini nei colori perla per richiamare i colori delle perle ed ho creato anche un connubio tra palloncini ed elementi della natura. Io sono stata felicitata a lavorare con questa composta, perché mi piace molto sorgere di scoprire materiale. Il progetto ha scoprire la scoperta di scoperta di scoperta di scoperta di scoperta con scoperta di scoperta. A scoperta di scoperta di scoperta di scoperta di scoperta di scoperta di scoperta che poi si sono iniziata in scoperta. Ho voluto realizzare anche un elemento che spiccasse tra i colori perla usati per la scenografia e quindi ho realizzato un cappello appunto color Tiffany con una tecnica con i palloncini sgonfi. Lavorare con i Gemartim è stata veramente una bellissima esperienza. Non era mai successo che facessimo dei progetti tutti quanti insieme. Nonostante le lingue diverse e la difficoltà nel parlare fra di noi, comunque ci siamo comprensse e ci siamo aiutati unico gli altri. La команда lavorava прекрасно, tutti выполnano la sua vita, tutto stato 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 fatto per il plan e e il più importante è che ci sono stati certi problemi. Quindi grazie a tutti, tutti hanno messo i nostri proposti, tutto questo è stato fatto in un'ottima progetto, che vi potete vedere in una foto final. Grazie. 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 Grazie.